4.200 sacche raccolte solo lo scorso anno, 2.500 donatori e fino a 15 persone al giorno che si presentano al centro trasfusionale di Fano. Numeri importanti garantiti pure in tempi di pandemia e ottenuti anche grazie alle campagne di promozione e di sensibilizzazione portate avanti da Avis Fano. Dopo il Donor Day dedicato alle forze dell'ordine, per questo mese l'associazione di volontariato ha lanciato la donazione in blu. Tutti i donatori di sesso maschile che doneranno nel mese di aprile potranno usufruire di una visita gratuita, urologica e quindi sostanzialmente una maggiore attenzione, una sempre più attenzione al donatore e al suo stato di salute. La donazione e prevenzione ha poi precisato il dottor Carlo Pazzaglia, direttore di medicina trasfusionale di Marche Nord. Infatti, ha spiegato, si rispetta sia la salute del ricevente sia quella del donatore che viene sottoposto a diversi esami. Il medico ha anche ricordato i requisiti richiesti. Il donatore deve avere un'età compresa fra 18 e 65 anni. Però la prima donazione è meglio farla, meglio farla prima dei 60 anni. Si è accettate anche dai 60 ai 65, ma ci deve essere poi un controllo medico più accurato. Il peso assolutamente decisivo deve essere almeno sopra i 50 chili, 50 chili è il limite e ovviamente deve essere in buona salute. E faremo gli accertamenti anche durante prima della prima donazione, cioè avremo un momento di colloquio e di esami di laboratorio per verificare lo stato di salute del donatore. Grazie. Grazie.